Benissimo, allora questo seminario come i precedenti è registrato e ho il grande piacere di presentarvi oggi Amedeo Alessandro Raschieri. Amedeo Alessandro si è laureato in lettere classiche a Torino con una tesi sulla poesia geografica greca. Ha proseguito gli studi sempre a Torino dove ha ottenuto il dottorato di ricerca in filologia greca latina e bizantina studiando la poesia geografica latina e in particolare a Vieno. Ha lavorato come assegnista occupandosi del De Invenzione di Cicerone e alla Statale di Milano dove ha studiato l'istituzio oratorio di Quintiliano. Attualmente è insegnante di liceo e insegna lingua latina nelle università di Torino e di Milano. L'incontro di oggi è basato soprattutto sulla creazione di lessici attraverso euporia e ci parlerà appunto di euporia retorica che incontra il DILAR, cioè il Digital Lexicon of Ancient Rhetoric. Grazie Federico, grazie per l'invito e grazie per l'occasione che ho di discutere un progetto che è assolutamente all'inizio dello suo sviluppo. In realtà è da alcuni anni che ci penso, grazie alla possibilità di utilizzare euporia. Questo progetto ha poi avuto così, ha iniziato a camminare, è un progetto che ha avuto anche un piccolo finanziamento ormai qualche anno fa da parte dell'Associazione Internazionale di Studi di Rhetorica e un progetto che è un desiderato, un monotredesiderato di quelli che sono gli studi di retorica, anche se è ancora riuscire arrivare a dei risultati, richiede un percorso molto lungo e potete vedere le ragioni andando avanti un po' in questa discussione, in questa presentazione. Perciò il primo elemento è proprio quello che volevo sottolineare, quello che è un work in progress, qualcosa che si sta pensando anche attraverso proprio anche l'attività concreta attraverso euporia è qualcosa che si sta sviluppando. E il confronto e la possibilità di discutere questi problemi spero che possano portare anche delle idee per gli sviluppi futuri. Un problema principale che riguarda questo campo è che ci sono pochi progetti sulla retorica che utilizzino gli strumenti delle digital humanities e c'è qualche cosa soprattutto negli Stati Uniti, ad esempio c'è un libro abbastanza recente del 2015, ma sono pochissimi, si lavora molto sul lessico, siamo in un punto di intersezione tra quello che è il problemi lessicali, anche di rappresentazione digitale dei lessici, quelli che riguarda le ontologie e quello che riguarda poi invece la terminologia retorica, poi uno studio più storico anche di quello che è la terminologia retorica. Ad esempio questo è uno di qua ho ricordato, è una delle poche opere che fanno quest'analisi, in realtà poi come ho messo anche uno straccio, questo ridorfo a Ted Davidson, Rhetorica and the Digital Humanities del 2015, l'elemento della retorica, qua siamo negli Stati Uniti, perciò è solo uno degli elementi che poi interessano questi autori perché poi più in generale si occupano poi della scrittura, anche della scrittura poi computer, la capacità di parlare in pubblico però con uno sguardo più sulla modernità. Cos'è il dealer? Questo progetto che ho in mente da qualche anno, questo Digital Exclamation Rhetoric, viene fuori da un'esigenza. L'esigenza ad alcune domande e delle esigenze molto concrete. Noi non abbiamo uno strumento recente adeguato per studiare il lessico retorico antico, greco e latino. E qua ho messo due esempi, vi mostro qualcosa poi in particolare, abbiamo tre opere di riferimento, in realtà ce ne sono molte di più, qua vi parlerò poi brevemente dell'Ernesti, del Vortibuc del Rhetoric e dell'Ausberg che molti di voi soprattutto l'Ausberg conoscono e ce ne sono poi altri manuali di retorica antica, in qualche modo trattazioni sistematiche di quelle che sono i concetti e anche le parole, se volete, della retorica antica, ma soprattutto poi lo sguardo e quello sistematico, dare un'organizzazione, mostrare in modo sistematico il metodo degli antichi. Partirei proprio dall'Ausberg, è un vero e proprio manuale, che nella sua però vedete che è anche molto datato, la prima edizione del 1960, la seconda del 1973, è una grande così progetto è stato di fondare quella che è la teoria della letteratura attraverso lo studio della retorica antica. Poi abbiamo avuto questa importante poi traduzione, molto più recente, del 1998, in lingua inglese. Bisogna fare attenzione perché nell'Ausberg non c'è soltanto la parte di retorica, perché c'è proprio uno sguardo generale, sicuramente la retorica, quella che perciò l'arte del discorso ha la parte maggiore, in particolare c'è una suddivisione in paragrafi, ha il grande della trattazione, ma si occupa anche di poetica. Utilizza fonti greche, utilizza fonti latine e cerca di sistemare come fosse un immenso puzzle tutte queste fonti. È molto importante perché ci dà una struttura, uno sguardo d'insieme, anche uno sguardo però poi approfondito su ogni singola questione. E' molto utile come guida attraverso questo mare magnum della retorica antica, l'ampio indice iniziale, ma gli indici poi anche delle parole, dove troviamo il latino, il greco, il francese, perché viene, si usa in questo caso partito dalla lingua tedesca, si utilizza per questa traduzione la lingua inglese e c'è anche un indice delle parole in francese. Dunque si pone anche da questi manuali importanti e queste opere fondamentali il problema interlinguistico, di far parlare questi termini tecnici, molto tecnici, nelle varie lingue. I vantaggi dell'Auberg sono quelli di questa profonda e approfondita analisi dei vari termini dalle fonti antiche, e questo lo sguardo è sempre sulla retorica antica, non si dimentica un po' lo sguardo sulla retorica poi contemporanea, c'è sempre questo confronto, questa relazione tra il greco e il latino, c'è una grande attenzione per le questioni storiche e filologiche, anche un'attenzione minuziosa alle sfumature, alla variabilità nei significati, la connessione tra questi diversi concetti retorici, una visione quella che è sistematica e sistemica, che è quella a cui anche il mio progetto mira. Il problema grosso dell'Auberg, forse è l'unico problema, ma che per me è fondamentale, questi termini, queste varie citazioni, sono atomizzate, sono fuori dal contesto, è come se i testi si facessero parlare, i vari pezzetti, i vari atomi di questo discorso antico sulla retorica venisse preso, rimesso in un grande calderone e ristrutturato completamente. e questo c'è un'grossa perdita, che è quella del contesto dei testi antichi. Ancora abbiamo un'altra grande risorsa, che è il StoryShare World Book del Rhetoric, che è stato completato di recente, questo progetto editoriale 1992-2015, abbiamo 12 volumi, qua vedete la versione cartacea, c'è anche la versione ormai elettronica, è un'opera fondamentale, importantissima, per lo studio della retorica, è un lessico storico, perciò ci sono tutti gli elementi che abbiamo detto prima importanti, ogni emma ha associato una voce approfondita, soprattutto autorevole, gli autori sono studiosi per quei campi, molto autorevoli, molto completa. Il problema è che l'attenzione qua, il problema principale è la grande ampiezza cronologica, per ogni termine retorico, si parte dall'antichità, si vede cosa è successo, cosa è cambiato nel Medioevo, nell'età moderna, fino ad arrivare ai confronti con l'età contemporanea. Perciò in una visione storica è molto importante, la parte però, solitamente la parte sull'antichità è ridotta, è giustamente ridotta, perché sono grandi escursus, però anche ridotta poi nella, quegli elementi che a me interessano molto, che era la variabilità, l'attenzione al contesto. Queste sono un po' le opere principali a cui i nostri strumenti più recenti, in realtà, per trovare un lessico sistematico greco e latino della retorica, bisogna andare a fine Settecento e bisogna tornare all'Ernesti. Però se guardate le date, quello dei termini retorici greci sono del 1795, quello del lessico retorico latino e del 1797. Esso è l'unico lessico sistematico della retorica antica. E qua ho messo due voci di esempio, qua sulla Euresis, all'Invenzio, come nella versione greca, molto, molto succinta, vedete con piccole, anche qua, le fonti fuori dal contesto, un confronto tra varie definizioni, è un confronto poi in generale con la dottrina quintilianea, però la parte latina non è considerata nel dettaglio. Sulla parte, adesso quando non abbiamo tempo di rivedere nel dettaglio, la voce invece sempre corrispondente, qua l'Invenzio, nella versione latina, è molto più ampia. Molto più ampia perché segue la vicenda della parola attraverso i vari passaggi di Cicerone, fino però ad arrivare a confronti con quella che è gli autori contemporanei per l'Ernesti, perciò c'è anche un confronto con i contemporanei. Riprende poi tutti i vari utilizzi della parola Invenzio in quintiliano, un confronto tra Cicerone e quintiliano, si arriva agli autori antichi, della tarda antichità, e c'è un breve riferimento a quello che era già stata la trattazione nel lessico greco. La voce però diventa molto ampia, però il problema dell'Ernesti è che la selezione, intanto non è una selezione delle fonti completa, spesso è abbastanza sommaria questa trattazione, qua sull'Invenzio si prolunga abbastanza, in altri casi la selezione è anche dei passaggi poi da commentare, non sono sempre convincenti. Questo è il punto a cui ci siamo, gli strumenti che abbiamo noi a disposizione. Per lo studio del lessico retorico antico. Non ho già detto prima, ho già accennato al fatto che nelle guidelines dell'Atei non abbiamo degli standard per un mark-up specifico per gli elementi retorici. Questo è uno degli elementi che sono, a differenza di altri elementi, come i grammaticali, a livello semantico, non abbiamo, sicuramente poi, quelli più materiali dei testi, nella Tei non abbiamo uno standard per marcare gli elementi retorici. Dunque, questo però è un lavoro in qualche modo da fare, perché capite bene che il livello retorico e di analisi retorica è presente poi in ogni testo. Il problema è che non abbiamo ancora un lessico di riferimento stabile, dunque è poi difficile proporre poi anche uno standard. Il problema è che in realtà è duplice, perché ci sono due elementi di analisi che nei testi di cui mi occupo, io mi occupo in particolare di testi che parlano di retorica nell'antichità. Dunque la mia necessità è duplice da una parte e la necessità è quello di di occuparmi del singolo termine dal punto di vista retorico, perciò riuscire a marcare in modo efficace i singoli termini. Dall'altra parte è per me importante riuscire a individuare quelle che sono le sezioni tematiche all'interno delle varie opere che trattano i diversi concetti retorici, categorie retoriche. E in questo caso XML-TEI ci presenta un altro problema, che è un problema più tecnico, finché riusciamo a marcare la frase, la sentence, riusciamo a marcare il paragrafo, il capitolo, ma quando dobbiamo andare tra paragrafi, sezioni omogenee dal punto di vista tematico, già tra varie paragrafi, oppure abbiamo sezioni che riguardano il livello omogeneo a livello di intero libro o di più libri, come succede, non so, più libri che si occupano dell'invenzio e dobbiamo poterlo dire a chi consulta il nostro repertorio, il nostro lessico, in questo caso gli strumenti che abbiamo a disposizione per quanto riguarda l'annotazione dei testi secondo gli standard TXML in questo caso non ci aiuta. L'altro elemento difficile da rendere e da anche qua a livello proprio di markup è il problema della variabilità lessicale. Ho detto che uno degli elementi che mi interessano di più e mostrare come questo lessico antico retorico sia un lessico che si sta formando. Dunque c'è il problema che si pone a un livello ad esempio di sincronia. Lo stesso autore o autore o autori vicini dal punto di vista cronologico usano termini diversi per parlare degli stessi fenomeni retorici. Addirittura lo stesso autore usa termini diversi in opere diverse o all'interno della stessa opera poi ne vedremo un caso. A maggior ragione come si evolve nel tempo. Faccio un vediamo un caso molto breve che può essere abbastanza comprensibile. Qua siamo autori allora qua abbiamo Cicerone e la retorica ad Erenium sono coevi praticamente probabilmente la retorica ad Erenium è precedente di poco. Qua sono le parti in cui si divide un discorso un'orazione Cicerone è d'invenzione la sua opera giovanile cioè exordium narrazio partizio confermazio reprensio conclusio se guardate la retorica ad Erenium abbiamo elementi che si sovrappongono exordium narrazio ma poi partito diventa divisio confermazio viene uguale lo stesso termine reprensium diventa confutazio e poi per fortuna abbiamo conclusio e conclusio vedete che sono in qualche modo le loro fonti il loro ambiente in cui veniamo utilizzati quelle parole che veniamo utilizzati qua sono ambienti anche di scuola e sono omogenee lo stiamo stesso periodo però utilizziamo di nuovo parole diverse la cosa si complica perché poi Cicerone stesso più avanti rivede anche facendo confronti con altri autori ti dice che le parti queste parti in cui si può suddividere possono essere quattro cinque o sei o addirittura sette perciò lui è ben consapevole del fatto che il discorso si può dividere in varie in varie in varie in varie sezioni in qualche modo supera quella che è la visione più semplice che aveva più legata all'insegnamento scolastico dell'età giovanile la complica e la mette la propone in modo più problematico se parla a questo punto di esordire narrare dividere o proponere confirmare refutare degredi concludere per ora vedete che si complica ulteriormente il discorso se andiamo a vedere le fonti greche fonti greche in questo caso precedenti perché noi la cosa complicata è che a volte la fonte greca noi abbiamo la prima attestazione di un termine retorico prima in latino che in greco ma soltanto per questioni di mancanza di fonti perché magari lo stesso concetto lo abbiamo la prima attestazione in latino ma sappiamo che con lo stesso concetto era già stato utilizzato aveva già una parola in greco ma non abbiamo ci manca l'attestazione precedente in greco che magari invece poi abbiamo nella forma che però a noi è conservata in un autore greco successivo e per quanto riguarda guardate la variabilità all'interno delle parti del discorso per quanto riguarda ad esempio Aristotele qua per fortuna siamo bene ho scelto non a caso questo esempio abbiamo quattro parti in un protesis pistis epilogos noi sappiamo da Diogenela Erzio che è qualcosa di simile ma con termini diversi guardate almeno per i due centrali protesis pistis diegesis prostus antidicus erano quelli la terminologia utilizzata dagli stoici le cose poi vedete c'è una grande variabilità all'interno dello stesso autore se si va ancora nel dettaglio si vede che Cicerone utilizza nell'oratoro un'altra altre ancora suddivisione parla di ordire esponere eccetera eccetera ma il caso estremo è quello delle partizioni soratorie dove cambia cambia all'interno della stessa opera il lessico utilizzato non sto a riprendere tutto nel dettaglio ma guardate addirittura all'interno si va avanti nell'opera paragrafo 15 da confirmazio si arriva a firmamento da principium si parla di inizio su questo proprio sulle difficoltà avevo scritto qualcosa qualche anno fa è da qua che è nata questa mia esigenza forte poi di ripensare questo di poter pensare soprattutto come poter rappresentare questa variabilità e poi in prospettiva vedere come soprattutto vedere poi come perché i latini in questo caso Cicerone gli autori gli altri maestri di retorica dell'epoca lavorano su un lessico retorico già stabile come poterlo bisogna tenere anche conto di questa necessità di una connessione interlinguistica tra questi due modi è un lessico da organizzare in modo gerarchico perché comunque ci sono categorie sotto categorie perciò potrebbe funzionare bene un'ontologia in questo caso ma nello stesso tempo anche una conoscenza sistemica perché c'è questa variabilità all'interno della stessa parola una possibilità di avere sotto categorie che si strutturano diversamente a seconda di ogni autore a seconda di ogni periodo e all'interno poi dei vari autori allora per riuscire dal punto di vista generale teorico a così tenere insieme tutta questa materia noi abbiamo due possibilità una possibilità parto dalla seconda quella che all'inizio del mio progetto pensavo di utilizzare quella di anzi dalle categorie retoriche io pensavo di partire dall'ausberg dalle categorie già sistematiche sistemate in un organismo così compiuto dell'ausberg e arrivare poi ai testi marcare poi i vari testi le varie sezioni testuali i singoli termini facendo riferimento poi a quelle che sono le categorie utilizzate dall'ausberg e funziona può funzionare questa prospettiva soprattutto perché abbiamo una struttura solida generale dal punto di vista teorico la possibilità di utilizzare degli strumenti dei riferimenti riconosciuti anche a livello dalla comunità scientifica come importanti come questo emanare dell'ausberg il problema è che c'è questa perdita forte dell'elemento della variabilità sincronica e diacronica bisogna fare io ho provato attraverso in una prima fase prima di utilizzare l'eoporia retorica a fare questo lavoro di annotazione a livello lessicale a livello di sezione a livello di sezione tematica utilizzare le categorie dell'ausberg non ci sono riusciti perché c'è la necessità di fare troppi compromessi sono categorie già molto raffinate perché sono pagine e pagine di in qualche modo un'ontologia già fatta ma c'è sempre qualcosa che sfugge a livello della singola parola e si è costretti così a perdere molto per quanto riguarda l'elemento storico e filologico il valore della singola parola del singolo termine allora forse conviene vedere il problema dalla parte rovesciare il problema partire dai testi per arrivare alle categorie rettoriche questo lavoro è possibile a livello di annotazione non sicuramente con un'annotazione appunto che non utilizzi ad esempio le potenzialità di euporia proprio per la difficoltà di fare questo di tener conto di questa grande variabilità sicuramente non sarebbe possibile farlo in modo completo senza gli strumenti digitali i vantaggi del partire dal testo per arrivare alle categorie rettoriche quello di valorizzare la variabilità sempre mantenere sia per quanto riguarda chi annota il testo sia poi per l'utilizzatore finale del repertorio questo legame tra testo e contesto tra il singolo termine e gli altri termini che stanno intorno la funzione comunicativa che ha il termine in quel contesto in qualche modo la relazione con un orizzonte culturale più ampio dell'autore o di chi era immaginato come pubblico il problema ci sono alcuni problemi anche con questo approccio perché ad esempio bisogna scegliere quali sono i termini importanti che diventano termini retorici perché spesso il termine retorico è un termine generico che in un contesto teorico dal punto di vista retorico acquisisce una specializzazione ma questa è una scelta di chi si occupa di quel termine e chi crea in qualche modo il lessico altro problema è necessario annotare ogni occorrenza perché magari nello stesso paragrafo quel termine è ripetuto dieci volte dobbiamo annotare ogni volta questo termine in questa fase ad esempio io di solito cerco di questo elemento mantenerlo è quello di poter annotare e comunque evidenziare come appartenente all'essico retorico tutte le occorrenze del termine qual è il modello dunque che io propongo visti questi problemi generali sicuramente parto dall'analisi dei testi per arrivare alle categorie retoriche questo avete compreso che è un po' il metodo che ho utilizzato ho progettato così un'analisi modulare partendo dai testi latini ve l'ho detto spiegato anche un po' perché spesso le prime attestazioni dei termini retorici ce le abbiamo in latino anche se sappiamo che erano già state prima sviluppate in greco e soprattutto poi perché il latino è la lingua in cui sono specializzato in questo lavoro sulla retorica almeno possiamo in questo caso possiamo fare poi delle distinzioni per quanto riguarda le epoche l'età repubblicana l'età imperiale e poi la tarda antichità in questo momento sto occupandomi di questo primo primo momento in cui sto annotando la retorica de renium e cicerone del de invenzione brutus de optimo genero oratorum de oratore orator partizione soratoria e topica già solo dire tutte queste opere pensare alla mole di queste opere è un lavoro dunque è già enorme riuscire ad annotarle tutte con questa a livello così in qualche modo dire la singola parola e poi a livello della sezione sicuramente questo lavoro modulare si potrebbe estendere anche i testi greci in età ellenistica imperiale tardo antico addirittura poi arrivare all'età bizantina come si può organizzare poi questo listico ho detto ci sono due necessità che viene fuori dalla notazione quello di una notazione che tenga insieme sia l'aspetto gerarchico in qualche modo delle categorizzazioni che poi sono poi quelle che utilizzano gli autori latini e greci i retori antichi cioè partire dal concetto generale e poi man mano trovare le suddivisioni interne a livello logico però nello stesso tempo è questo il problema è poi dare una creare poi un insieme che sia leggibile in modo anche più ampio e sistematico perciò l'ontologia può in parte aiutarci ma non risolve tutti un'ontologia non ci risolve tutti i problemi dobbiamo soprattutto poi decidere i livelli di rappresentazione perché questo è il mio auspicio è quello che lo possa mettere in mano uno strumento poi a un fruitore finale che possa decidere a quali livelli poi andare a fare la sua ricerca sulla singola parola che può essere così vista in modo diacronico sul singolo autore sul singolo periodo sulla singola categoria retorica in modo sincronico o diaconico o la possibilità di fare questo passaggio dalla categoria principale alle sottocategorie questo potrebbe poi essere un solido punto di partenza per pensare poi a eventuali standard per la marcatura di elementi retorici anche guardando però in questo caso poi al mondo e poi soprattutto poi anche alla riflessione retorica contemporanea a che punto si situa eucoria retorica in questo discorso e lo strumento che sto utilizzando per marcare i test una marcatura molto particolare perché c'è una marcatura principale sono gli elementi che mi interessano i due livelli principali quello tematico e quello lessicale quello che io ho chiamato RTP retorical topic e l'altro retorical term perciò c'è un esempio c'è un passo c'è una sezione paragrafo uno siamo il primo libro tre dell'inizio della retorica aderenium vedete che si può andare a individuare quelli che sono gli elementi le sezioni ad esempio dal primo periodo da portet fino a venustate fino alla fine di questo periodo che inizia con pronunziazio con venustate con una marcatura molto semplice molto si riesce a leggere con molta precisione sappiamo che questa sezione si occupa ad esempio delle parte sartis quella che in questo caso però sono andato a creare io un'etichetta per questa è un'etichetta che ho creato a partire però dal testo utilizzato dallo stesso autore anonimo della retorica del regno la stessa cosa noi possiamo vedere appunto qua c'è poi al suo interno però vedete che all'interno abbiamo altre sottocaterie si parla poi di invenzio in questa invenzio invenzio da invenzio fino a reddant poi parla di disposizio poi di elucuzio poi di memoria poi di merosazzo perciò abbiamo già una struttura gerarchica al suo interno addirittura grazie ad eucoria possiamo andare a dire cosa che appunto con una marcatura fatta subito in te non riusciamo a fare che possiamo andare a dare delle indicazioni perché ad esempio una rhetorical topic occupa diversi paragrafi occupa diversi capitoli si va al si lo stesso lo stesso tema viene trattato addirittura per un intero libro con una con delle indicazioni molto semplici qua semplicemente invece del del numero della della del periodo ci sarà anche l'indicazione di libro di capitolo anzi di paragrafo perché poi abbiamo deciso di utilizzare come struttura base perciò avremo il numero del libro il numero del paragrafo il numero del periodo e a quel punto la parola che ci fa da ancora e in questo possiamo perciò anche creare poi queste grandi sezioni senza necessità poi di ripetere questa indicazione poi ad esempio all'inizio di ogni paragrafo questo da punto di vista di chi utilizza dal mio dal mio punto dal mio punto di vista è molto è anche un forte elemento di economicità notate questo appunto per quanto riguarda le caratteristiche generali già in questo prima in questa prima immagine si vede come la poi la marcatura può essere ancora più complicata perché si può complicare perché noi qua abbiamo ad esempio il termine disposizio che all'interno dell'opera stessa della retorica del regno acquisisce vari significati dal punto di vista retorica varie empire varie caselle perciò c'è un senso uno ci sarà un senso due che dipende dall'utilizzo che poi non è un'unica caratteristica ma quello stesso termine viene poi riferito a fenomeni ritorici diversi c'è una disposizione che riguarda ad esempio in questo caso riferito alle parti dell'orazione c'è una disposizione che invece questo stesso termine è utilizzato ad esempio per l'elocuzio per poter per dire appunto la disposizione di una particolare disposizione delle parole all'interno della frase con una funzione espressiva e io in questo modo riesco a distinguere i tuoi diversi usi di disposizio altri elementi tecnici che molto concreti che stiamo utilizzando ma per noi come utilizzatori di euporia sono molto utili ad esempio questo l'uso della tilde in cui ad esempio abbiamo siamo in questa frase tria genera sunt causarum io volevo notare soltanto genera causarum senza dover così dare anche integrare in questa espressione anche il sunt e semplicemente utilizzando una tilde so che devo andare questa categoria retorica questo genera causarum nel senso uno che mi sono notato poi è diverso dal genera causarum che viene utilizzato in un'altra sezione dell'opera semplicemente una marcatura che riguarda questi due termini questi due termini che però vengono poi utilizzati in modo costante addirittura possiamo utilizzare per anche qua euporia per annotazioni interne mi sono occupato durante poi mi sono accorto che c'è una correzione da portare al testo di partenza allora posso fare ho utilizzato una marcatura apposita per evidenziare che questo testo è da correggere e posso anche in modo più verboso e più esplicito dire come deve essere corretto questi sono gli elementi e gli strumenti principali utilizzati ma il bello di euporia è che si possono aggiungere tanti altri elementi che non rientrano forse subito in quello che è il progetto iniziale che uno che uno ha previsto però sono poi molto utili perché è una necessità che viene poi fuori dalla ricerca io mi metto come filologo come in questo caso come lessicografo e soprattutto come ricercatore sui testi antichi e a un certo punto è il testo che mi interroga e io devo cercare di dare poi delle risposte interpretative esegetiche al testo e qua vediamo come possiamo utilizzare euporia in questa dimensione questi che sono manuali di retorica hanno una struttura poi standard soprattutto il de invenzione e la retorica ad erenium la presenza costante degli esempi ad esempio ogni affermazione ogni definizione retorica è accompagnata c'è anche l'elemento della definizione che io al momento non ho non ho marcato in modo meriterebbe anche fare questo lavoro di solito all'inizio di un'istratazione c'è una definizione e poi possono esserci degli esempi in questo caso vedete che ho scelto di riportare semplicemente come ex perciò esempio un esempio che riguarda la brevitas nel senso 1 questo termine ritorico importante è la brevitas e in questo caso riesco a andare tutta questa sezione che parte da 10 quad e arriva alla fine di questo periodo quad genus fina e intelligatur è un esempio di quello che ha detto prima di cosa intende per brevitas addirittura in questo caso abbiamo una citazione e anche qua abbiamo scelto un modo per indicarlo costante questo quote che in questo caso è una citazione questi sono versi poi in modo più esplicito si può indicare la fonte di questa citazione sappiamo poi io posso poi andare a raccogliere tutte le citazioni che riguardano questo termine in questo caso il termine brevitas altre cose ancora tecniche che possono essere interessanti e lo troviamo sempre in questa schermata lo si vede l'utilizzo delle parentesi quadre qua abbiamo nello stesso periodo re brevite narrare potere mus incipiemus narrare unde necesserite in questo caso era per me importante discutere i due narrare e in questo caso abbiamo utilizzato gli ancoraggi semplicemente indicando tra parentesi quadre la parola in questo caso seguente ma si può utilizzare anche la parola precedente messa tra parentesi quadre possiamo ancorare quel singolo termine a quella data in quella particolare accezione ho già detto appunto che ci sono elementi altre marcature secondarie abbiamo già visto la citazione abbiamo visto gli esempi quando ci trovo dei termini greci lì utilizzati nel latino anche qua c'è un apposito tagge che posso utilizzare questo lang e poi specifico greek c'è anche una taggatura specifica per i nomi ho già detto delle correzioni eventualmente anche delle abbreviazioni sono quelli che in questo momento questi sono quelli che sto utilizzando qua vedete un correnza esempio di termine proemio con una notazione ma questo sono ulteriori notazioni che possiamo fare allora quali sono per chiudere un po' questa presentazione quali sono un po' i vantaggi da appunto di vista di chi utilizza euporia retorica per lavorare sul sul testo per costruire questo lessico la possibilità di concentrarsi sul testo era uno dei miei obiettivi ed euporia retorica mi permette di concentrarmi sui testi e di creare però nello stesso tempo di creare poi una struttura che sia corrispondente a quella del testo non una struttura in qualche modo che sovrappongo io al testo ma strutturare poi quello che far emergere quella che la struttura sottostante al testo la possibilità di adattare questa annotazione alla tipologia testuale in questo caso avete visto dei manuali scolastici perciò l'attenzione per le definizioni per esempio per le citazioni la possibilità di annotare anche elementi che sono sarebbero altrimenti anche eccessivamente hanno un certo alto grado di verbosità in questo caso riusciamo però a rendere comunque chiare e leggibile altri vantaggi la possibilità di annotare avete visto elementi che non sono previsti dal progetto dal progetto come era stato studiato come è stato proposto a tavolino è un'adattabilità dunque della marcatura che si può implementare durante il lavoro e la possibilità anche di utilizzare quegli elementi di non perdere degli elementi di poterli utilizzare anche in un secondo momento quando ci poniamo altre altre domande riguardo a quel testo possiamo seguire perciò una gerarchia all'interno della marcatura non è necessariamente necessario utilizzare una marcatura che sia così segua con un'assoluta sequenzialità il testo posso ad esempio all'inizio del mio campo in cui faccio faccio una marcatura mettere tutte le sezioni a livello tematico tutte le cose che mi interessa a livello tematico e poi passare poi a individuare gli esempi le eventuali citazioni e poi soltanto a quel punto passare poi a un'analisi più lessicale le caratteristiche in generale dell'annotazione che per me sono importanti il fatto che sia leggibile e comprensibile adattabile al mio progetto man mano che si sviluppa e la possibilità anche di evidenziare quelli che possono essere degli elementi che vanno contro quella grammatica che abbiamo stabilito del nostro linguaggio di marcatura la euporia retorica evidenzia anche là dove ci sono degli errori formali e la possibilità subito di renderli evidenti e di poterli correggere in qualche modo poi un file xlml alla fine che possa essere più possibile privo di errori a che punto siamo arrivati in questo momento e così posso chiudere siamo arrivati ad avere intanto per un'opera di esempio un xml non ancora in formato set ma che è possibile poi trasformare in te un file xml con un lessico retorico per quello specifico autore e per quella specifica opera ci sono già i testi retorici in formato xml a questo punto i due strumenti si possono far interagire si possono far dialogare tra loro il problema ancora aperto e questo è un punto importante per me in questa occasione per avere dei suggerimenti possono poi passi ulteriori quello di come poter poi rendere tutti questi lessici singoli e dello stesso all'interno dei vari autori delle varie opere poterli fare poi dialogare tra di loro e fare in modo di creare questa struttura che sia appunto da una parte strutturata in modo gerarchico dall'altra parte che posso però avere questa apertura sistemica io immagino un grande grafo con questa rappresentazione generale di quello che è il lessico retorico antico grazie allora Alessandro ti ringrazio moltissimo è stata una bellissima lezione e dopo vorrei intervenire un po' anch'io ma lascerei subito la parola a Tiziana perché ci dice che purtroppo poi a mancanza di tempo quindi se c'è ancora molto volentieri lascio la parola a Tiziana grazie grazie per questa presentazione perché mi ha dato tantissimi spunti di riflessione su un argomento che mi ritorna sempre ma non riesco mai poi a riuscire a focalizzarmi sulla notazione retorica dei testi letterari io in realtà avevo affrontato questo tipo di problematica per la mia tesi di dottorato quando appunto volevo in qualche modo attraverso appunto sia tei che altre modalità cercare di notare le le figure retoriche nella camera da letto di Attilio Bertolucci quindi un testo contemporaneo che ha diverse problematiche tra cui appunto il fatto che cerca di essere un verso una o in qualche modo l'autore spinge verso la prosa e però poi comunque scrive questo romanzo che appunto poi definisce romanzo in versi e ovviamente il verso aggiunge ulteriori limiti alla notazione in tei della delle figure retoriche perché possono comprendere diversi versi eccetera abbiamo almeno in quella in quel contesto quello che ho cercato di fare era buzzare una un'ontologia per le figure retoriche prendendo un po' in considerazione invece uno di un testo teorico delle figure retoriche che appunto della Garavelli però certo quello che mi risultava strano era il fatto che ci potevano essere diverse definizioni di un di un aspetto quindi questo poteva complicare però ovviamente nella nella mia testa c'era anche l'opportunità di poter arricchire un dominio di conoscenza come appunto le figure retoriche tramite tramite la lettura e l'interpretazione di altri di altri studiosi questo da una parte quindi appunto l'interpretazione cioè l'interpretazione l'approccio la prospettiva che io potevo dare a quell'ontologia poteva essere arricchita da altre ontologie anche magari però cercando di puntare sempre su un aspetto diverso quindi una definizione poteva essere arricchita da altre definizioni o anche il concetto di retorica poteva essere poteva cambiare nel tempo questa era un po' l'idea utopica appunto di di creare uno strumento che appunto già nella io mi sono dottorata nel 2013 quindi già all'epoca mancava si può utilizzare ovviamente la tema e diventa diventa una diventa troppo da una parte time consuming dall'altra diventa ovviamente difficile anche recuperare le informazioni quindi l'avevo scartato a priori e quindi l'ontologia l'ontologia che poi anche in altri ambiti poi magari anche Gaia si se vuole può può dire quello che sta facendo lei in realtà appunto avevo pensato a una macro struttura dove ci potevano essere sia delle figure retoriche di suono che di significato che appunto retoriche macro categorie che potevano contenere altre appunto classi e relazioni fra classi e mi è innanzitutto piaciuto il fatto che si parta dai testi e non appunto dalla teoria anche se in questi due casi probabilmente ci dovrebbe essere un punto di un punto di unione fra l'analisi che il critico appunto sceglie di fare e anche la teoria e per questo che in qualche modo nel progetto si poteva in qualche modo nella mia testa anche garantire anche a certe per esempio certe categorie che vengono utilizzate nella letteratura di un certo periodo storico e essere appunto definite anche dalla teoria di quel periodo storico allora Tiziana scusa ti interrompo un istante faccio pubblicità all'incontro dell'otto marzo in cui Christian D'Agata frene per parlare proprio di questo incontro fra la teoria da un lato e i testi dall'altro quindi il top down incontro il bottom up all'interno del circolo ormeneo per digitare e che questo è un penso una parte fondamentale anche rispetto appunto a questo a questo tipo di a cercare di strutturare un certo un certo tipo di di conoscenza quindi no era semplicemente per dire che non ho capito bene c'è quali soluzioni non erano proprio cioè appunto io ho visto i limiti di un'ontologia rispetto alla definizione rispetto al modello rispetto al fatto che il mio concetto di retorica può essere molto diverso dal concetto di retorica per esempio di altre persone e non perché appunto possono esserci dei percorsi storico critici differenti ed è per questo che appunto mi domandavo poi sì a me il limite per me era più che altro nell'ontologia visto nella limitazione teorica dell'ontologia stessa mentre appunto cioè non non lo vedevo dal punto di vista tecnico ovviamente dal punto di vista tecnico ci possono essere diverse cose di limitazioni però non dal punto di vista astratto e appunto poi che 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 poi ha una soluzione tecnica tutto tutto qui cioè più che altro un commento sono assolutamente d'accordo perché non non si può altrimenti perché già in realtà l'ontologia è già è già nei testi nei vari ne proprio nell'organizzazione di questo di questo sapere nella loro mente e noi riusciamo a questo punto a poterlo rendere così esplicito ed è proprio quello e però appunto è una struttura a questo punto che saranno varie strutture che poi dovranno poi dialogare dialogare tra di loro ed è quella poi la cosa la cosa molto bella di questo lavoro grazie benissimo vediamo grazie grazie a entrambi dopo ovviamente questo è un discorso lunghissimo per cui spero che avremmo il tempo anche di recuperarlo e di approfondirlo magari anche con altri incontri Tiziana passiamo la parola a Gaia cosa dici Tiziana è già sparita ci sono ci sono ci si stavo uscendo dall'università purtroppo però vi sto sentendo se volevi finire tu il discorso assolutamente vai vai così magari rientro più successivamente allora grazie mille è stato molto interessante anche per me come diceva Tiziana anche io mi sono occupata di retorica e soprattutto in relazione al Medioevo e a Dante quindi ho fatto una tesi di dottorato sulle metafore nella commedia di Dante per farlo ho fatto sia una database perché appunto avevo riscontrato i problemi con la TEI di cui ha già fatto Cennatiziana di cui ha parlato anche a Medio quindi avevo scelto di non annotare le metafore in TEI ma di fare un database e nel farlo avevo ovviamente studiato anche poi da un punto di vista invece teorico i trattati medievali e quelli classici più importanti quindi la retorica di Reni un cicerone quintiliano e via dicendo e già allora mi ero detta caspita sarebbe molto bello digitalizzare tutta questa roba e renderla consultabile quindi anzi se vi dovesse interessare io sarei molto felice di aggiungere la parte medievale digitalizzata cioè insomma annotando le artes poetrie e o le artes dictaminis insomma il recupero medievale di questa cosa a tal proposito io ovviamente ho uno sguardo un po' più parziale perché mi sono occupata di una figura specifica anche se molto ampia come la metafora però quello che mi è sembrato particolarmente interessante nei trattati medievali sono due cose da un lato quello che dicevi tu sulla coesistenza di definizioni e esempi secondo me è veramente importantissimo marcarli in maniera diversa in modo che uno possa recuperare tutti gli esempi perché spesso è proprio tramite il paragone tra gli esempi diversi che si riesce a capire anche quali sono le differenze le oscillazioni nelle definizioni e poi sì la struttura come diceva Medeo è il testo stesso del trattista che offre un'ontologia in qualche modo e nei trattati medievali questo si vede benissimo c'è un testo molto particolare che è questa versificatoria di Gervasi di Melcle della fine del XII secolo ed è un testo in cui tutta l'organizzazione delle figure della retorica classica è completamente sovvertita in base dei nuovi principi e lì secondo me sarebbe veramente bello poterlo visualizzare o come grafo o anche sì come una gerarchia ordinata di cose e l'impressione che ho avuto studiando i trattati medievali è che chi si metteva a sistematizzare secoli dopo Cicerone la retorica del Regno in questo materiale lo faceva proprio con l'idea di aggiungere nuovi esempi più aggiornati spesso più legati al testo biblico che ai testi classici B ridare una nuova organizzazione al materiale in termini proprio di schema quindi penso sia veramente importante far emergere tutto questo e adesso il progetto di cui ho fatto gentilmente Tiziana sto espandendo il lavoro che ho fatto durante il dottorato collaborando con Carlo Meghini del CNR stiamo creando un'ontologia delle metafore dantesche e quindi niente al solito è limitata a un solo fenomeno retorico che è la metafora però stiamo cercando di tenere insieme la componente linguistica sintattica e quella semantica per cui spero che ci siano occasioni di dialogare anche su questo perché interesserebbe molto sapere se ci sono intersezioni con il tuo lavoro grazie sicuramente grazie monte fa molto piacere sicuramente la parte poi mi sono occupato spesso anche di testi non medievali perché sicuramente umanistici ho studiato quello che è poi la retorica tra quattrocento e cinquecento per quanto riguarda proprio la ripresa poi di questi autori passato il cicerone di invenzione la retorica del renium e quello sicuramente non si può non tenerne conto perché sono o soprattutto poi alla base di quello che viene fuori e dopo anche dal punto di vista letterario perciò questi studi sono fondamentali per quanto riguarda poi anche il pensiero poi diciamo europeo sulla possibilità di fare letteratura di pensare letteratura e fare letteratura l'Ausberg arriva proprio a quello a teorizzare tutto quanto il problema è che poi appunto come ci rendiamo conto lavorando sui testi il problema è quello di dare spessore a quella parte poi di storia proprio di queste idee la storia dei testi l'ontologia è uno strumento per me e per Eupory è stato e continua ad essere un ottimo strumento poi per lavorare direttamente sui testi e la notazione sicuramente sì ecco un aspetto che interessava a me molto è quello di poter combinare in un lavoro come dire in un lavoro progressivo in un lavoro anche di più gruppi di ricerca l'aspetto storico l'aspetto di ricerca storica sulla retorica con anche ciò che tu indicavi proprio all'inizio del 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 tuo intervento cioè quello di altri approcci alla retorica ad esempio l'approccio strutturalista che è in parte molto diverso molto più come dire di tipo analitico ok eccetera eccetera quindi poter arrivare ad avere delle non una ontologia della retorica ma avere delle ontologie delle diverse teorie retoriche in particolare della retorica antica che deve tener conto per forza di cose e tu ce l'hai indicato in modo estremamente brillante è stato veramente molto molto bello il tuo intervento ha un aspetto diacronico imprescindibile stiamo parlando veramente della storia no della evoluzione di una terminologia ok la terminologia è sempre in evoluzione e va sempre contestualizzata per cui nel come dire nei manuali tecnici attuali è tutto a livello sincronico la terminologia deve essere coerente con se stessa non può ammettere incoerenze no mentre nella sua dimensione storica è bello poterne studiare lo sviluppo nel corso del tempo e vedere quindi come i sistemi siano naturalmente coerenti se presi in una loro sezione in un loro segmento storico e siano apparentemente incoerenti se noi andiamo a collassarli in una dimensione sincronica che non tenga conto del loro aspetto diacronico perché una volta sciolti in diacronia tutte le contraddizioni vengono di nuovo a sciogliersi quindi si tratta solo di avere un modello che sia sufficientemente ricco per tener conto della realtà dei fatti ecco questa è un po' l'idea e quindi poter poi di fatto far dialogare fra di loro questi diversi punti di vista questi diversi approcci anche metodologici eccetera e poterli combinar fra di loro cosa ne pensi assolutamente la visione storica e io in ultime ricerche sono concentrate sul problema di questi discorsi all'interno della scuola perché poi era una pratica era un creare un lessico che però veniva fuori da una pratica da una necessità anche di insegnare da una necessità di nel momento stesso in cui gli insegni di strutturare le conoscenze e poi secondo me è molto affascinante il problema poi interlinguistico la possibilità di dialogare con in questo caso con il greco che dà e vedere anche le differenze la possibilità di risemantizzare di prendere una parola che non ha quel significato ritorico è quello che diceva ad esempio la difficoltà a volte di riconoscere quello che c'è da notare come l'essico ritorico o non o che non appartiene a quel tipo di rischio e poi secondo me è una conoscenza è una strutturazione della conoscenza che si è fatta in pratica all'interno delle scuole noi di quello abbiamo queste labili tracce testimonianze che sono quelle dei testi che ci rimangono che però con questa attenzione particolare se c'è lo strumento che ci permette di inserire l'elemento tematico l'elemento lessicale l'elemento sematico all'interno di un contesto farlo interagire con quello a quel punto riusciamo anche forse a capire meglio il perché di questi fenomeni e anche perché poi secondo me la retorica diventa un po' il paradigma di quello che era l'educazione antica perché la scuola superiore è la scuola del retore perciò è qualcosa anche di più come per noi la scienza in qualche modo lo strostro paradigma per guardare il mondo per loro il paradigma per guardare il mondo era la retorica e dunque diventa poi uno strumento fondamentale per comprendere quella che è la società la cultura e non solo la letteratura certo è anche da dire che negli anni più recenti molto spesso con retorica noi tendiamo a limitarci all'aspetto di figura retorica e abbiamo appunto un approccio che è molto più strutturalista che non di tipo storico ma in realtà la retorica antica di fatto è un'analisi del discorso che tiene che tiene conto anche dell'aspetto figurale ma dove l'aspetto di figura retorica è solo una delle parti della retorica antica per cui magari tornare ad avere un approccio storico può giovare anche agli studi della retorica moderna cioè contemporanea della retorica contemporanea e lascio la parola a Gaia che vuole intervenire Gaia no no volevo dicevo soltanto sì sono molto d'accordo sul fatto che l'idea di retorica oggi sia molto impoverita e che un lavoro del genere sia importante anche per rivalorizzare questi aspetti mi sembra che negli Stati Uniti lo si stia facendo molto di più ci sono anche appunto all'università dei corsi di scrittura retorica ci sono si cerca un po' di più di riprendere l'insegnamento a volte magari lo si fa in maniera un po' antistorica per cui un lavoro del genere sicuramente sarebbe cannibalizzato sarà cannibalizzato dagli americani bisogna vedere come con che risultati ma scusate non volevo intramettermi di nuovo e volete replicare Medeo? no sicuramente io quello che posso dirvi dal punto di vista dell'ambiente che conosco che è quello dell'International Society for History and Retory c'è molta attenzione a questo a questa tematica e in quel caso però l'istoria della retorica perciò dall'antichità al mondo contemporaneo però c'è secondo me un ambiente dove si può si può sentire questa sensibilità si può avere questa sensibilità dal punto di vista storico nello stesso tempo un'apertura verso l'insegnamento quello che di solito in questi congressi internazionali c'è anche la parte di didattica e quello che c'è un dialogo è molto stretto tra e soprattutto anche la cosa molto interessante tra varie tra le varie parti del mondo tra quella che può essere la percezione del fatto retorico orientale a quello che invece la nostra visione europea o quella nordamericana c'è veramente uno uno sguardo uno sguardo globale io lo approssimo ho già un abstract approvato per il congresso che doveva esserci l'anno scorso ma è rimandato ormai l'anno prossimo quest'anno ma l'anno prossimo perciò in qualche modo ho già la possibilità di portare un po' un messaggio se riusciamo poi anche altri a avere anche in quell'occasione a portare altri progetti a presentare anche uno sguardo più ampio una progettualità più ampia sicuramente può essere una buona occasione anche quella ecco poi vedo un'osservazione di Andrea Taddei che ricordo è coorganizzatore dei seminari di Euporia Andrea prego Federico buongiorno buonasera a tutti ho solamente aggiunto un intervento nel momento in cui tu parlavi della diacronia dei significati e stavi dicendo cioè dell'importanza di attenzione storica delle nozioni e mi è venuta in mente questa cosa e l'ho detta intanto in questo momento sto parlando dal cellulare ho seguito con grande attenzione e ho imparato molto mi fermo qui grazie grazie Andrea appunto l'osservazione riguardava anche i termini giuridici no? sì sì cioè specificavo questa cosa qua per la mia conoscenza è che è un parziale off topic quello che sto realizzando e mi rendo conto per la mia conoscenza è fondamentale nel caso della retorica greca penso ovviamente ad Aristotele penso ad essicografi è essenziale l'isolamento di alcuni termini specifici ritenuti tecnici per poi vedere come le argomentazioni vengono di volta in volta costruite e cosa sta dietro quei termini e quelle nozioni è un'altra via esplorabile mi è venuta in mente semplicemente ascoltando questa bella vera no certamente io non la trovo affatto off topic anche perché siamo veramente molto molto interessati a vedere lo sviluppo ok dal per così dire ok dal linguaggio naturale privo di terminologia ok al linguaggio specialistico dove la terminologia viene sempre più viene di e più cristallizzandosi no questo naturalmente è evidentissimo ad esempio nella terminologia nella terminologia della geometria antica no dove basti pensare basti pensare ad esempio al termine cono no dove dove si passa o sfera no dove si passa da un lato l'idea di pigna l'idea di 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 cono o dall'idea di palla per giocare all'idea di sfera no e di e più va specializzandosi no quindi e questo non vale soltanto questo non vale soltanto per i singoli termini ma cosa che a noi interessa moltissimo anche proprio nella nella definizione di euporia stessa ok vale anche per le strutture per la messa in forma delle informazioni delle informazioni stesse no si pensi appunto ad esempio a come l'apparato critico stesso viene a definirsi in maniera sempre più scientifica a partire dai dai primi dal mondo antico fino ai giorni nostri posso dire una parola certamente io sono adirata proprio oggi è stata una giornata nera finalmente alla fine alla fine io riesco ad ascoltarmi mi viene una rabbia ho aspettato tanto innanzitutto complimenti perché ho almeno guardato le immagini almeno questo ho ascoltato i vostri commenti e io sto studiando proprio diciamo io le chiamo le frasi fisse del mondo classico cioè da dove poi è venuto fuori è venuto fuori il famoso linguaggio professionale il linguaggio sintetico omologato forse lei professore non è d'accordo però ho scoperto una cosa molto importante parlavate del linguaggio matematico è alla base del linguaggio umano il linguaggio matematico più andiamo avanti e più ne scopriamo le meraviglie volevo dire questa cosa io sto lavorando sto facendo un'analisi comparativo tra il linguaggio il linguaggio diciamo del mondo classico io parlo parlo del mondo di Virgilio sono partita da Catullo perché Catullo è la mia passione e mi sono e sono arrivata a Dante e la cosa che ho scoperto in un'analisi comparativo che le tecniche per la fissità della frase e per l'omologazione scusate sono un po' tartaglia l'omologazione degli acronimi è stata fatta già nel mondo classico io non riesco più a attuare un'analisi trasformazionale su una diciamo su un verso diciamo di Dante non parliamo poi di Ennio diciamo più banale è Cesare ecco mi complimento con voi mi sarebbe piaciuto tanto mi venne in Arabia comunque era bello anche poi desideravo tanto avere dire una mezza parola con il professore Boschetti ok grazie scusatemi scusatemi ma sono molto abbiamo occasione anche di insomma approfondire gli argomenti con il suo intervento ai webinars di euforia il 15 di febbraio esatto grazie le mando un bacio anche se sono adirata non potevo essere più nervosa guardi non mi è mai capitato di non avere l'audio grazie benissimo grazie va bene buonasera allora grazie se ci sono se ci sono altre domande vi prego di scriverle altrimenti ci salutiamo va bene grazie ancora Amedeo grazie a voi grazie a tutti buonasera a tutti discorsi che riprenderemo di sicuro buonasera a tutti grazie buona serata arrivederci grazie arrivederci buonasera